Primi passi estivi per il nuovo Consiglio Comunale. Ieri, nella sala consigliare, un ordine del giorno sbrigato in poco più di un'ora e mezzo in attesa del Tour de Force di giovedì. Domani, infatti, dalle 10, il Sindaco Campus esporrà le linee programmatiche della sua giunta, presentando i progetti da realizzare durante il mandato. Martedì, invece, sotto la guida del Presidente del Consiglio pentastellato Maurilio Murru, i lavori hanno visto una serie di segnalazioni da parte di quella che, si è deciso all'unanimità con una modifica del regolamento, non si chiamerà più opposizione, ma minoranza. Il passaggio linguistico, improntato alla cortesia istituzionale, non maschera però le punzecchiature tra le due parti. Accanto alle comunicazioni dovute sulla riduzione di distanziamenti per la Sasseri Alghero da parte del De Masala o, tra gli altri, il pericolo, per le conseguenze dei cavi tranciati un mese fa dal camion gru sulla linea Sirio per Bocca del 5 Stelle Sias, colpi di Fioretto tra Pano in quota PD e l'assessore alle attività produttive Niccolò Lucchi sui parcheggi in gestione alla Saba. Schermaglie tra il salviniano Dejana e il primo cittadino. Dejana, recatosi in prima persona alla scala R, accusa l'amministrazione di superficialità nella gestione dell'incendio e il sindaco ribatte sulla inutilità della presenza in loco sia sua che di Dejana, visto il costante collegamento dell'amministrazione con i vigili chiamati a gestire l'emergenza. Distesi e concordi, al contrario, i toni sul destino dei lavoratori Itifras in forze nel parco geominerario dell'Argentiera, con il consigliere democratico Pinna che ha chiesto la proroga del progetto, da lui stilato, per proseguire la mobilità degli operatori e la promessa di un impegno risolutivo da parte del sindaco. A fine seduta, Virginia Oronesu, del gruppo misto di maggioranza, viene eletta rappresentante del Comune nel consiglio di amministrazione del convitto Cano Poleno, con 27 preferenze sulle 5 del collega Alivesi.